Si lavora a tappe serrate in vista del rientro in classe di tutti gli studenti. Eppure i problemi non mancano. Il settore più critico è quello dei trasporti e il sovraffollamento degli istituti con molte classi non in grado di garantire il distanziamento. Il ritorno alla didattica a distanza in molti casi sarà un percorso obbligato. L'incontro in programma tra il ministro dell'istruzione Bianchi e i sindacati affronterà il tema dei protocolli di sicurezza e gli esami ormai dietro l'angolo. In settimana in agenda il tavolo con i presidenti delle regioni dove si affronteranno i temi della logistica a cominciare da quello più delicato dei trasporti. Il tracciamento è un percorso obbligato per individuare i contagi a scuola ma il ritorno in classe almeno per un mese è un fatto doveroso. Dal 26 in zona gialla e arancione tutte le scuole saranno in presenza al 100%. In zona rossa le lezioni si svolgeranno in classe fino alla terza media mentre alle superiori l'attività si svolgerà almeno al 50% in presenza. A preoccupare sono ancora i trasporti troppo affollati, un tema che riguarda soprattutto gli alunni delle superiori. Ci sono 390 milioni di euro a disposizione ma gli effetti non sono ancora visibili. C'è un limite rappresentato dal numero insufficiente di bus. Upi e Anci chiedono di rivedere gli orari di ingresso e uscita. Certo è che le scuole hanno ricevuto 150 milioni da spendere anche per la sicurezza, l'acquisto di impianti di areazione, prodotti di igiene degli ambienti, termoscanner e tamponi.